La gemma scompare quando sboccia il fiore e si potrebbe dire che ne viene confutata. Allo stesso modo quando sorge il frutto il fiore viene per così dire denunciato come una falsa esistenza della pianta e il frutto subentra al posto del fiore come sua verità. Ora queste forme non sono semplicemente differenti l'una dall'altra ma l'una soppianta l'altra in quanto sono reciprocamente incompatibili. Ma nello stesso tempo però la loro natura fluida le rende momenti dell'unità organica in cui non solo non entrano in contrasto ma sono necessarie l'una quanto l'altra l'una all'altra e soltanto questa pari necessità costituisce la vita del tutto. Benvenuti e benvenute alla live monografica su Hegel. Una bella sfida quest'oggi cercare di sviscerare questo pensatore difficile e oscuro in maniera da capire cosa trarne di buono, cosa trarne per l'oggi, cosa trarre da Hegel per il nostro mondo, la nostra vita, la nostra attualità. Che siamo d'accordo o meno con lui siamo di fronte a un gigante e quindi affrontiamolo come sempre dopo la sigla. Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Duferra. E chi non lo ascolta è cibo per gli zombie. E qualcuno potrebbe chiedersi ma perché leggere? Perché leggere Hegel così complicato, così oscuro, così difficile, così astruso, così controverso? La domanda però non è perché leggere ma perché capire Hegel? Ebbè capire Hegel è uno dei modi perfetti per combattere la zombificazione perché, come vedremo, che siamo in sintonia o meno con questo pensatore, non possiamo negare che non abbia avuto un'influenza straordinaria nel nostro pensiero contemporaneo, che continui ad avere una certa influenza e che abbia dato vita a tantissime concezioni contemporanee della storia, della politica, della filosofia, ovviamente della cultura, dell'arte. E decodificare Hegel significa entrare in contatto con una parte viva del pensiero filosofico contemporaneo. Certo, poi, come vedremo, Hegel è un pensatore difficile da accettare e io stesso mi trovo molto, molto distante da moltissime sue concezioni, però è proprio in virtù di questo che Hegel va affrontato, va capito. E capire Hegel è una cosa molto particolare. In queste, credo, due ore, un po' meno forse, di monografica, non riuscirò che, non potrò che portarvi la superficie del suo pensiero. E infatti, io ve lo ricordo sempre, la monografica ha un senso ben preciso, che non è quello di darvi il contentino per farvi dire, ah, adesso finalmente ho capito Hegel. No, raga, da questa monografica non capirete Hegel. Hegel lo si capisce leggendo libri, approfondendo, quindi la monografica ha sempre il senso di spingervi all'approfondimento. Andate a leggere Hegel, oppure andate a leggere i testi che io consiglio per capire Hegel. E spero che questa monografica, come tutte le altre, sia un primo approccio, un primo passo, che poi dovrete, insomma, nutrire voi con la vostra curiosità. La monografica deve farvi sentire ignoranti e quindi curiosi, ok? Ok, quindi perché leggere e capire Hegel? Beh, come ho detto, è, dal mio punto di vista, il pensatore più influente influente nella filosofia degli ultimi 250 anni. Senza dubbio la sua è stata una rivoluzione. Alcuni storici della filosofia lo pongono come iniziatore del pensiero contemporaneo tucur, altri lo mettono come la fine del pensiero moderno e comunque un tradunion straordinario fra il prima e il dopo. Sicuramente è un punto di svolta di importanza capitale, anche perché poi qualsiasi filosofo successivo a Hegel ha dovuto fare i conti con Hegel e ricordiamoci questo, nella filosofia chi viene criticato di più è chi è più importante, perché i filosofi poco importanti sono quelli che poi non vengono confutati, criticati dai successori. Hegel è stato affrontato da tutti, non puoi non affrontare Hegel. In secondo luogo Hegel è un filosofo molto odiato e poco capito, ed è odiato soprattutto per la sua forma discorsiva, perché ha una prosa molto spesso odiosa, astrusa, complicata, oscura, inutilmente oscura. Infatti forse direi che la sua eredità peggiore è stato quello di ispirare tantissimi altri autori che hanno detto, ah è vero non ho granché da dire ma posso dirlo in modo complicato e quindi Hegel a differenza di questi aveva qualcosa da dire, che siamo d'accordo o meno aveva qualcosa da dire e non è un caso che poi abbia avuto una certa influenza. Poi anche una sfida, per me è una sfida divulgarlo, perché appunto è difficile nella struttura del suo pensiero ed è oscuro nello stile, purtroppo è il suo grandissimo limite, ma tanti filosofi hanno avuto questo limite, anche Nietzsche è stato oscuro nel suo pensiero in modo diverso rispetto ad Hegel, però è una sfida ed è una sfida anche per chi vuole affrontarlo Hegel, perché leggere Hegel ragazzi non è una cosa che dici, ah lo faccio così perché sono in vacanza, vado alle terme, quindi fra un momento e l'altro mi leggo Hegel. Leggere Hegel è capirlo anche perché, come con ogni grande filosofo, possiamo ritrovarci in lui e all'interno del suo pensiero io ho trovato tantissimi aspetti che mi hanno parlato e mi hanno raccontato e mi hanno fatto sentire cose che erano mie, ma non sapevo che fossero mie. Soprattutto la fenomenologia, per me è stata una lettura importante la prima volta che l'ho letta e pur nel disaccordo con tantissimi presupposti filosofici che poi andremo a vedere, però indubbiamente è stata un'esperienza importante. E una volta decifrato Hegel può veramente servirci, può servirci per capire certi fenomeni contemporanei e può servirci anche per fare un passo in più, può servirci per superarlo. Hegel vuole farsi superare. In realtà no, non è vero che vuole, lui voleva dire di aver trovato la verità definitiva, però noi possiamo superarlo e per superarlo bisogna capirlo, quindi mi raccomando leggetelo, leggete le fonti però, lo ribadisco. E quali sono i libri che consiglio di Hegel? Beh, in realtà cosa volete? Faccio un excursus delle sue opere che non sono tante, ma sono tante, direi. Sono tante da un punto di vista di gravità delle sue opere. Però poi vi consiglio anche un paio di autori che vi faciliteranno l'approccio ad Hegel. Ecco, Hegel è uno dei filosofi che tu puoi iniziare a leggere nelle sue opere, ma secondo me una buona introduzione è veramente ottimale. Purtroppo per chi è in live, lo dico, ero talmente preso dalla monografica che mi sono dimenticato di mettere i link nella chat, però citerò queste opere e voi cercatele. Se siete invece indifferita trovate tutti i link in descrizione, quindi insomma dateci un'occhiata. Ovviamente la prima opera di Hegel che si cita è La Fenomenologia dello Spirito. È inevitabile, io ce l'ho in edizione Bonpiani con testo a fronte, la trovo un'ottima edizione e ve la consiglio. Ora, che cos'è La Fenomenologia? Beh, La Fenomenologia al tempo stesso è l'opera più famosa e forse più dirompente di Hegel, anche stilisticamente. È un'opera ferocemente poetica in alcuni suoi momenti, veramente molto letteraria, però vuole anche essere un'introduzione al sistema filosofico hegeliano. È ovviamente un unicum nella storia della filosofia, in primo luogo perché, signore e signori, un'introduzione che, insomma, può tranquillamente essere un oggetto contundente con cui ammazzare la vicina che si mette a usare l'aspirapolvere alle due e mezza di mattina, cosa che a me non è mai assolutamente successa, quindi non sto alludendo a qualcosa che sia successo a me. Però, dicevo, un'introduzione così è già di per sé un unicum, ma è anche un unicum perché è un'introduzione a un sistema filosofico che è essa stessa un frattale di quel sistema filosofico, perché già qui all'interno possiamo, leggendola, trovare le strutture del pensiero hegeliano. Ovviamente, però, non possiamo fermarci lì, o meglio, sì, in realtà questa, secondo me, è l'opera da leggere di Hegel. Poi, se questa opera cattura, ispira, e può essere, perché io conosco tante persone che hanno amato quest'opera, e ribadisco, io stesso alcune cose di quest'opera le ho amate, però se uno vuole addentrarsi, beh, ci sono due opere che poi sono il compimento del sistema filosofico hegeliano. Una è la scienza della logica, che è un tomo veramente tosto e veramente complicato, e per quello serve veramente un'introduzione, ragazzi, è uno degli libri più complicati che se non mai stati partoriti da entità umana, e anche la scienza della logica, però, è una parte del sistema, perché poi c'è il sistema in sé per sé, che è l'enciclopedia delle scienze filosofiche, che tiene in sé tutto quanto quello che poi è lo sviluppo del pensiero hegeliano, altrettanto difficile. Io stesso non l'ho mai letta integralmente l'enciclopedia, ve lo dico, ho fatto alcuni esami, ho letto delle buone parti, ma non l'ho mai letta integralmente, perché non ce l'ho fatta, non ammetto, non ce l'ho fatta. Ci sono altri due testi che consiglio, anzi tre, scusatemi. Uno è le lezioni di estetica, che secondo me è un bellissimo testo, in cui Hegel va ad approfondire la sua visione dell'arte, quindi l'arte come traino dei significati passati, l'arte non art for art's sake, l'arte per il piacere dell'arte, ma l'arte perché ha una funzione sociale, politica, filosofica, antropologica, e quindi è un bellissimo modo per intendere l'arte, che anche lì darà vita a molti, molti ulteriori pensatori futuri. Ci sono i lineamenti di filosofia del diritto, che è, diciamo così, il testo politico di Hegel, il testo della filosofia politica di Hegel, in cui lui sviscerà il suo concetto dello stato etico, questa entità che poi andremo un po' a toccare durante la monografia, e poi c'è un testo sottovalutatissimo che però è uno dei miei preferiti di Hegel, che è le lezioni di storia della filosofia. È un testo che io amo perché sono le lezioni che Hegel tenne all'università sui filosofi, nella storia della filosofia, ed è interessantissimo, ed è un ottimo modo per approcciarsi ad Hegel. Se volete partire con una cosa non troppo devastante, come lo può essere la fenomenologia, però per iniziare a capire i punti fondamentali del pensiero hegeliano, beh, quello è un ottimo modo perché ovviamente Hegel ha usato le sue lezioni di storia della filosofia per squadernare un po' il suo pensiero, il suo modo di riflettere, quindi può essere un ottimo modo per approcciarsi a Hegel. Bellissimo testo, lo consiglio. Però ci sono anche alcuni testi su Hegel. Ovviamente non posso non citare l'opera di Kojev su Hegel, anche lì sono lezioni di storia della filosofia, e credo che sia l'opera, credo che Kojev abbia fatto il lavoro non solo di ricostruzione, ma reinterpretazione del pensiero hegeliano come mai mi sono trovato di fronte, quindi veramente, veramente molto importante. C'è un testo un po' più didascalico che è La Guida ad Hegel di Claudio Cesa, trovate se non sbaglio edizioni la terza, sì, edizioni la terza, ed è un ottimo modo per introdursi alle opere principali, alla struttura del suo pensiero. E poi c'è quello che fu il mio professore di teoretica che mi introdusse a Hegel, che fu Franco Chiaregin, con l'introduzione alla Fenomenologia dello Spirito. Testo molto chiaro, molto accademico e didascalico, senza frizzi o lazzi poetici, però molto chiaro se uno vuole introdursi a questo pensatore. E queste sono le opere che consiglio, e una volta terminate le opere consigliate, torniamo a leggere brevemente la chat per vedere cosa abbiamo qui da dire. Ma siete tantissimi, siete tantissimi. Ciao a tutti, che bello vedere così tante persone davanti, davanti a Hegel, davanti a me che parlo di Hegel. Per un attimo ho sentito l'opera di Kojima su Hegel, no 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 no, Kojew, Kojew. Kojima non credo abbia scritto opere su Hegel, a meno che, insomma, Death Stranding non abbia in sé qualcosa di hegeliano, potrebbe anche essere. Si narra che il mostro di Firenze avesse letto l'enciclopedia delle scienze filosofiche prima di compiere il primo delitto. Non credo, non credo che sia una ricostruzione adeguata, ma insomma teniamoci il dubbio. Allora, vediamo un po'. Un saluto alla vicina. Siamo tutti affiliati al gruppo Bilderberg. Esatto, esatto, esatto. Unica monografica in cui non c'è lo spam in chat del comando letture. Sì, perché mi sono dimenticato di metterlo. Mi sarebbe piaciuto metterlo, ma mi sono dimenticato, quindi, ragazzi, va così. Va così. Uno finisce per perdersi nella fenomenologia per preparare la monografia, è così. Sì, il libro di Kojew costa 60 euro, è una Delphi e cosa vuoi, sono sempre molto, molto costosi, però. Nietzsche ha parlato di Hegel, sì, ne ha parlato in maniera molto, molto poco, con scarsa stima, mettiamola così. E dall'altra parte, a me pare, io qui lo dico, Nietzsche non mi sembra abbia veramente letto Hegel. Forse Nietzsche, l'ha fatto con tanti pensatori, è. Nietzsche non era un assiduo lettore di filosofi. Sappiamo che ha letto sicuramente qualcosa di Schopenhauer, sappiamo che ha letto vari qualcosa di Kant, però quando parla di Hegel, parla sempre in modo molto, sì, con poca stima, mettiamola così. Ci manca Kojima che usa attivamente Hegel in una sua opera, forse potrebbe essere capace. Speriamo di no, speriamo di no. Perché non hai citato l'opera critica di Marx? Perché l'ho letta, ma non la conosco così bene, molto semplicemente. Io consiglio i testi che leggo e che conosco discretamente bene, che sono stati utili a me. L'opera critica di Marx ad Hegel, io l'ho letta in alcuni esami universitari, ma non posso consigliarti una roba che non ho mai veramente approfondito, quindi tutto lì. Bene, bene, bene. Allora, grazie Shadow Walker che sta mettendo i titoli dei libri che ho consigliato. Grazie mille. Molto, molto bravi, come sempre, i nostri moderatori. E direi di lanciarci, direi di lanciarci nella prima sezione di questa monografia, che è una fatica del pensiero, che è una fatica in tanti sensi. È prima di tutto una fatica storica. Perché, vedete, Hegel emerge, il pensiero hegeliano, emerge in un'epoca travagliata del pensiero occidentale. Emerge subito dopo la rivoluzione francese durante l'epoca napoleonica, prima del congresso di Vienna, in quei 25 anni che hanno segnato in modo indelebile la storia europea. E non solo, che, diciamo così, ha portato dei riflessi non indifferenti anche sul pensiero filosofico. O forse è il pensiero filosofico che si riversa nella realtà. Questo non lo sapremo mai. Però, indubbiamente, era un'epoca travagliata. Durante quell'epoca travagliata, beh, ci sono state varie vicissitudini nel pensiero. Nasce l'idealismo tedesco in relazione alle aporie lasciate aperte da Kant. Kant, che è rimasto per anni una ferita aperta. Perché Kant ha fatto la rivoluzione e, come ogni filosofo rivoluzionario, lascia aperta una ferita. Una ferita che poi i successori devono cercare di non rimarginare, non si rimarginano le ferite filosofiche nella storia. No, hanno cercato di rimettere in ordine quali sono le grandi aporie lasciate da Kant, delle grandi problematiche. Sono tante, però principalmente quelle che poi vanno a ispirare l'idealismo tedesco sono l'indeterminazione fra il fenomeno e il noumeno, quindi la relazione fra ciò che è il fenomeno, ciò che mi si presenta di fronte, quello di cui posso farmi immagine e quindi di cui posso fare esperienza, e il noumeno, ciò che sta al di là dell'esperienza. Ovviamente la questione, ok, ma dove si situa quel confine, si è stata dibattuta così tanto ed è rimasta una risposta fumosa e ognuno ha cercato di mettere quel confine. Poi il rapporto fra soggetto e oggetto in relazione a questo fattore che la rivoluzione kantiana è quella secondo cui la filosofia non serve più a togliere di mezzo le illusioni della realtà, ma invece è il modo per riconoscere in modo proficuo quali sono le illusioni utili. Se l'avete persa, è di più di un anno fa, ma io ho fatto la live monografica su kant all'inizio del 2020, recuperatevela, quando ancora non c'è il canale Twitch, peraltro. Se questa è la grande rivoluzione di kant, quindi non è più il soggetto che domina l'oggetto o l'oggetto che domina il soggetto, ma sono entrambi reciprocamente in divenire, mettiamola così, allora si creano delle problematiche perché si rischia di cadere in una cattiva infinità e via dicendo. E poi anche la questione della scientificità del pensiero filosofico, sono tutte cose che il pensiero di Kant non ha saputo esaurire e quindi hanno aperto una montagna di interpretazioni, una montagna di problemi che i filosofi hanno preso a piene mani, soprattutto Fichte e Schelling, a cui dedicherò sicuramente in futuro una monografica e che danno via all'idealismo tedesco classico, che poi è il pensiero in cui si inserisce, ma in modo molto molto greve, proprio Hegel. Qual è il senso dell'idealismo? Come potremmo definire l'idealismo tedesco? Beh, l'idealismo ha cercato di rispondere alle aporie kantiane rovesciando il rapporto soggetto-mondo. In che modo? Beh, dicendo fondamentalmente che nella comprensione della realtà il primato va al processo sul soggetto, cioè è il processo di sviluppo degli eventi della storia che ha il primato rispetto al soggetto conoscitivo, razionale. Infatti il soggetto conoscitivo razionale è il prodotto di uno svolgimento e quello svolgimento può essere la natura in Schelling, quindi la storia della natura, e può essere invece la dialettica fra io e non io in Fichte. Non possiamo entrare troppo a fondo in Fichte e Hegel, lasciamoli lì e li approfondiremo in una futura monografica, però per adesso per inquadrare la centralità del pensiero idealista tedesco classico è questo. Non c'è più una realtà di rapporto fra soggetto e oggetto, perché in realtà anche in quel rapporto a dominare la comprensione della realtà è il processo, il processo di cui il soggetto è anch'esso un prodotto. Ok, bene, perfetto. Partendo da questo, partendo da questa intuizione, Hegel costruisce quello che possiamo tranquillamente definire come il più sontuoso e stordente sistema filosofico moderno. E laddove dico sistema filosofico intendo dire un pensiero che cerca di fare due cose impossibili. Uno, di avere una coerenza interna inattaccabile e quindi di essere perfettamente autosussistente senza cadere mai in autocontraddizione e anche di risolvere ed esaurire la questione della verità. Sì, Hegel si mette in testa questa roba. Dice io voglio costruire un sistema che uno dica la verità e quindi che scopra la verità ultima del reale e che al tempo stesso sia autosussistente. Quindi non cada mai in contraddizione. Capite che, insomma, non è mica come fare un modellino della Lego oppure mettersi un puzzle da 5.000 pezzi. È una roba un po' più complicata. E quindi cos'è che cerca di fare? Beh, intanto tenta di superare Kant seguendo le orme di Fichte e Schelling. Quindi lui parte, infatti, i primi suoi scritti sono scritti critici nei confronti proprio di Fichte e Schelling. Ricordiamoci che la filosofia è bella perché si costruisce attraverso le critiche ed è una cosa molto importante di cui rendersi conto. La critica oggi non va molto di moda, quindi. E quindi lui fa una critica. Allora, parte della critica a Kant. Kant è il punto di partenza di ogni filosofo ad Hegel contemporaneo e da lì comincia a rendersi conto delle aporie e delle insufficienze del pensiero di Kant. E quindi arriva Fichte. E quando arriva Fichte, cos'è che contesta Fichte? Beh, contesta l'incompiutezza del suo sistema. Perché Fichte, in questo idealismo nel quale il processo di sviluppo dello spirito, della storia, si va a svolgere nella continua giusta posizione fra io e non io, l'io necessariamente pone di fronte a sé il non io e deve superarlo e contraddirlo per procedere, secondo Hegel questo è un processo che non funziona perché porta una cattiva infinità. Lui non vede come da questa dialettica io e non io si possa arrivare a qualcosa di compiuto e si rischia di cadere in un paradosso. Dall'altra parte c'è Schelling. Schelling invece è convinto che non ci sia necessariamente quella continua dialettica io e non io, perché tutti quelli che sono i momenti, quelli che sono le entità, i soggetti, gli oggetti della realtà, sono l'emergere da quello che è il sostrato della natura. Ok? L'idealismo di Schelling pone il concetto di natura come sostanza fondamentale. Ecco, Hegel non è convinto di questo perché dice che è un pensiero molto indeterminato, è un sistema indeterminato, nel senso, c'è quella famosissima frase, Hegel dice il sistema di Schelling è un sistema in cui, è una notte in cui tutte le vacche sono nere, perché in realtà in Schelling non si capisce come le cose, emergendo di volta in volta dalla natura, va, scusatemi c'è stata una moto fuori, vadano a differenziarsi e quindi la differenziazione in realtà sarebbe soltanto illusoria. Ora è evidente che Hegel nella critica che fa a Fichte e Schelling pone in essere un aspetto che sarà fondamentale del suo pensiero, cioè lui è un romantico, perché è parte integrante del pensiero del romanticismo, che contesta e trova insufficiente l'illuminismo che ha culminato poi nella rivoluzione francese, però è un romantico che contesta molti presupposti del romanticismo. Per esempio il concetto di incompiutezza in Fichte è quello di indeterminatezza di Schelling, che invece erano così importanti in tanti autori come Goethe, come lo stesso Hölderlin da un certo punto di vista. Ecco, Hölderlin che fu amico di Hegel, esattamente come Schelling studiarono insieme. Allora, Hegel dice che lo spirito, poi cercheremo di capire che cos'è sto dannato spirito, lo spirito non è un processo spinto dall'esigenza dell'io, come voleva Fichte, cioè l'io che ha l'esigenza, la necessità di porre un non-io e di superare quel non-io e di procedere ulteriormente e di porre un'altra negazione di sé e via dicendo. No, lo spirito di Hegel non può procedere per esigenze, non può essere necessitato, né può essere indefinito, un indefinito da cui emergono di volta in volta alle determinazioni senza però capire come emergono. E allora qui c'è la critica a Schelling e in parte anche una critica a Kant. Lo spirito per Hegel è un'altra cosa, lo spirito è una cosa molto più importante. Lo spirito per Hegel, ora tenetevi forte perché cominciamo ad arrivare a quelle formule che dici, eh ma che cazzo ha detto? Lo spirito è il reale, o meglio, è l'assoluto che si autocrea e va verso l'autocomprensione del proprio divenire. Bene, lo spirito è l'assoluto, il reale, che si autocrea, si autoproduce, quindi non ha nulla fuori di sé che lo produca e che cerca di autocomprendersi nella propria trasformazione continua, nel proprio divenire. Usando una formula molto più vicina a noi, lo spirito è il cosmo che si trasforma e attraverso la coscienza che si sviluppa al suo interno cerca di comprendere se stesso. Ovviamente è una citazione di Carl Sagan che ho messo lì tanto per contestualizzare, però è un po' questa l'idea. C'è questa totalità, questo assoluto, che non conosce nulla di esterno, perché se è assoluto non c'è nulla che lo possa negare, e lì vedete di nuovo fichte, io e non io, se tutto è io e non io, allora c'è sempre qualcosa al di fuori, e per Hegel questo è impossibile. No, questo assoluto non ha nulla al di fuori di sé, non c'è nulla che lo limiti, nonostante questo ha un suo divenire, ha una sua storia, e questa quindi totalità, questo assoluto cerca di autocomprendere il modo con cui si trasforma. È una spirale, e poi anche questo cercheremo di capirlo un po' meglio. Quello dello spirito, quindi, in Hegel, è letteralmente un percorso di fatica, la cui traccia, almeno la traccia lasciata a noi, essere limitati, che fanno parte di questo divenire, è la storia. La storia è la traccia parziale che questo divenire lascia dietro di sé. Noi possiamo guardare al passato, il passato che cos'è? Letteralmente il modo con cui l'assoluto, per un periodo, per un momento limitato, nello spazio e nel tempo, ha avuto questo processo di divenire, di cui noi siamo stati prodotti, anche, diciamo così, di scarto no, di scarto no, però siamo la conseguenza. Quindi è un percorso di fatica la cui traccia è la storia. Hegel contesta l'idea romantica che per cogliere l'assoluto ci voglia l'intuizione. Per Hegel no, non c'è nessuna intuizione utile, avete presente anche di nuovo lì, Hölderling, sono quei romantici secondo cui l'intuizione immediata, anche Leopardi, con l'infinito, nell'intuizione, nel pensier mi fingo. Quindi c'è questa idea che esista una sorta di facoltà non razionale o pre-razionale nell'essere umano che sente intuitivamente, perché siamo connessi alla natura, che le cose stanno così. Ah, questa è la verità, l'accolgo intuitivamente. Questa è un'idea molto romantica, Hegel la contesta, è uno dei momenti in cui si discosta di più dal pensiero romantico e quindi trovando un suo tratto di grande originalità. No, per Hegel per comprendere l'assoluto non ci vuole intuizione, niente di trascendentale, immediato, no? È tutto mediato e deve essere mediato, no? Ci vuole filosofia, dice Hegel. La filosofia è la fatica del pensiero che cerca di dare un linguaggio, una forma razionale al divenire dell'assoluto e che può anche diventare scienza, anzi che deve diventare scienza. La filosofia deve diventare la scienza dello spirito assoluto. Quindi deve creare un pensiero coerente, autosussistente, non contraddittorio e esauriente su questa cosa che è il divenire universale dell'assoluto. Wow! La filosofia quindi è il linguaggio con cui l'essere umano traduce questo percorso dello spirito e può comprenderlo. Può comprenderlo però facendo la fatica, non l'intuizione, non le cose romantiche, non come Aldous Huxley, le porte della percezione, quindi mi faccio di acidi e vedo la verità. No! Per Hegel la verità si vede riflettendo, pensando, facendo la fatica e quella fatica, secondo Hegel, viene a sviscerarsi usando tre strumenti. La logica, e quindi appunto c'è la prima grande parte del suo sistema filosofico che è la scienza della logica. Poi c'è il momento negativo che è l'osservazione della natura, le scienze naturali, cioè la natura è lo spirito fuori di sé, è la manifestazione dello spirito che però non è ancora autocompreso. E poi c'è il terzo momento che è quello della speculazione e del momento in cui, dopo il momento intellettuale della logica e dopo il momento negativo della natura, si trova nella speculazione il momento della razionalità positiva. Ed è il momento in cui lo spirito riesce effettivamente, efficacemente, positivamente a comprendere se stesso e a diventare quindi lo spirito assoluto. Quello che ha compreso, non riesco a usare un altro termine, che ha, no, capito, è sbagliato, però che ha, che comprende se stesso in ogni senso, che si è autodeterminato fino alla fine del suo percorso. Ecco, da questo, da questo tipo di struttura emerge quella famosissima, forse la più famosa, massima hegeliana, ciò che è reale è razionale. E tutto ciò che è razionale è reale. Cosa vuol dire? Vuol dire che dal momento in cui è il pensiero nella filosofia a rappresentare la fatica della comprensione di questo processo universale dello spirito, il reale, o Hegel lo chiama anche l'effettuale, cioè ciò che ha manifestazione, ciò che è esistente, corrisponde esattamente allo svilupparsi dell'idea. Cioè le nostre idee su quello che è l'assoluto, su quello che è lo spirito, corrispondono al reale, il che significa che ciò che è razionale è anche reale. E viceversa, niente sta al di fuori dell'assoluto, tantomeno le nostre idee, le quali anzi sono il momento più alto, più elevato di questa, di questo processo di comprensione. E qui si vede molto da vicino perché Hegel, nelle sue lezioni di storia della filosofia definì Spinoza come il filosofo più geniale, più vicino a lui. In effetti se voi leggete le lezioni di Hegel vi accorgete che lui si definiva, non nelle lezioni però lo si vede, lui si definiva in altre opere un greco moderno, quindi un uomo della Grecia antica però portato nella modernità, e l'unico filosofo che veramente sembra portare in palmo di mano e dire lui, lui ragazzi ha capito? È Spinoza. Beh in questa concezione del fatto che non c'è nulla al di fuori dell'assoluto non possiamo che vedere, almeno in parte, il panteismo spinoziano, Deus, Sive, Natura, Dio o la natura. Dio è tutto quanto, permea la natura e nulla sta al di fuori di Dio, perché se qualcosa stesse al di fuori di Dio, beh sarebbe una negazione di Dio che è autocontraddittoria. Allo stesso modo l'assoluto hegeliano non ha nulla esterno a sé e quindi non ha negazioni, il che vuol dire che ciò che sta all'interno dell'assoluto è ciò che è la realtà, e la realtà, il reale per Hegel è razionale, perché le idee corrispondono al dipanarsi dello spirito. Il pensiero è esattamente un'immagine di questo sviluppo, di questo divenire. In effetti, se quello di Spinoza è definibile come panteismo, quello di Hegel è definibile come panlogismo. In effetti il suo pensiero è stato spesso definito così. Quindi tutto è logicamente derivato, il che significa che il nostro pensiero, ancora più che nella filosofia spinoziana, può abbrancare questo divenire universale. Che se ci pensate è un'idea quasi superba. È quasi superbo pensare, Spinoza già di per sé era superbo, pensare che con la ragione tu possa conoscere Dio in tutto e per tutto è un'idea molto superba. Hegel va ancora più in là. Lui dice il pensiero razionale mi permette di dare conto dello sviluppo universale dello spirito, che è una roba tosta ragazzi. Ecco, lo strumento cardine per comprendere lo spirito qual è in Hegel? La dialettica. Ora io lo so che dialettica oggigiorno viene utilizzato male, perché noi diciamo dialettica come sinonimo spesso di retorica. Non è così, uno ha una buona dialettica, non è quella dialettica. La dialettica intesa in senso antico, quindi l'interscambio, lo scambio fra diversi poli, diverse entità. Ora, la dialettica nasce nell'antica Grecia, è parte integrante dei dialoghi platonici, quindi quando Socrate nel Filebo e in tanti altri dialoghi insomma mette in atto questo tipo di sistema, è proprio il sistema della dialettica. Hegel critica la dialettica platonica, pur riconoscendone la grande genialità, perché dice il problema della dialettica classica greca è che i momenti, i poli dello scambio dialettico sono molto statici. Si parla di giustizia? Per esempio, quando si parla di giustizia, si mettono contro due dialoganti in questo movimento dialettico, uno rappresentante l'idea della sicurezza e l'altro invece della libertà. Va bene, visto che sono due temi che vanno molto per la maggiore oggigiorno. Bene, parlando dell'idea di giustizia si scontrano questi due temi, però il problema è che questi due temi non trovano mai un loro momento di superamento di sintesi, sono due temi che rimangono comunque polarizzati e si può soltanto sperare di far sì che nella diatriba uno prevalga sull'altro. Per Hegel questo è insufficiente, la dialettica greca non arriva al momento veramente fondamentale che è capire che quei poli, quei momenti devono essere dinamici. Questa è una grande lezione, ecco questa è una cosa che io mi porto a casa da Hegel, è una grande lezione sulla polarizzazione che oggi domina, perché l'idea che nello scambio dialettico ci sia non più un tentativo di far prevalere un polo sull'altro ma ci sia la necessità intrinseca e da ambo le parti di superare lo scontro per arrivare a una sintesi migliore è una roba potente ancora oggi e poi ci torneremo su questo. Però la dialettica ha una struttura in Hegel che non è più quindi dialogica ma è triade, sono le famose triadi su cui non perderemo tempo, io ve lo dico ragazzi, qualsiasi manuale di filosofia va a riassumere le triadi che poi in realtà sono schematizzazioni che lasciano un po' il tempo che trovano e che sono dei modi per semplificare molto spesso male. Quindi salteremo noi tutte le triadi, coscienza, autocoscienza, ragione, tutte queste robe qua che non mi interessano. Però la struttura è importante, perché esistono queste triadi? Perché la dialettica hegeliana si sviluppa in tre momenti, quando quindi c'è l'evento che comporta la necessità di comprendere qualche cosa c'è prima il momento cosiddetto astratto intellettivo che è il momento di affermazione dell'elemento, dei momenti a cui consegue il secondo elemento della dialettica ovvero il momento dialettico razionale, il momento negativo, solo per poi venire a trovare la giusta dimensione nel momento speculativo e positivamente razionale. Allora qui io vi leggo alcune cose perché così cerchiamo di capire un po' meglio i tre momenti del moto dialettico, così viene chiamato. Nella grande enciclopedia Hegel scrive questo del primo momento, cioè quello intellettivo astratto, dice, l'attività dell'intelletto consiste in generale nel conferire al suo contenuto la forma dell'universalità. L'intelletto serve per dare qualcosa di particolare a una forma universale. Vedo un'ingiustizia, cerco di estrarre l'idea di giustizia. Per l'esattezza l'universale posto dall'intelletto è un universale astratto che in quanto tale viene mantenuto saldamente contrapposto al particolare, ma così nel contempo viene anche a sua volta determinato come particolare, perché se un'astrazione viene separata dal particolare da cui è stata ispirata, l'astrazione è a sua volta particolare, nel senso che è parziale, è un particolo, tanto per dire. In quanto agisce nei confronti dei suoi oggetti mediante separazione e astrazione, l'intelletto è il contrario dell'intuizione immediata e della sensazione, la quale in quanto tale ha totalmente a che fare con il concreto e si attene fermamente adesso. Quindi l'intelletto funziona separando. Molto semplice. Qui Hegel sembra quasi accessibile, dici ma sul serio? Ecco, poi arriva il secondo momento della dialettica che è l'antitesi, la negazione, il travaglio del negativo. E allora scrive Hegel, la dialettica è quell'oltrepassamento immanente, già qua cominciamo ad avere delle difficoltà, in cui l'unilateralità e limitatezza delle determinazioni intellettive, si presentano per quel che sono, cioè come negazione delle determinazioni stesse. Ogni finito consiste nel rimuovere se stesso. Il momento dialettico costituisce pertanto l'anima motrice del procedimento scientifico ed è l'unico principio mediante cui il contenuto della scienza ottiene nesso e necessità immanenti. Analogamente è nel momento dialettico in generale che risiede la vera elevazione non esteriore al di sopra del finito. Cosa che dice qua? Allora dice due cose principalmente. La prima è che il momento della negazione è quella in cui viene dimostrato che il particolare necessariamente nega se stesso, proprio in quanto è astrazione che si suddivide rispetto al particolare. In secondo luogo, dice una cosa importante, dice la scienza non può fare a meno di questa negazione. La scienza deve procedere per questa negazione, perché è questa negazione che le permette di arrivare poi ai suoi momenti più alti. E poi continua Hegel sempre su questo secondo momento. Ora, benché di solito l'intelletto si lamenti della dialettica, non bisogna pensare affatto che la dialettica sia qualcosa di presente solo alla coscienza filosofica. Piuttosto il processo dialettico è insito già in ogni altra forma di coscienza e nell'esperienza in generale. quindi la dialettica non è un'invenzione, è una scoperta, tu scopri la dialettica. Tutto quanto ci ricorda, scusate, tutto quanto ci circonda può essere pensato come esempio di dialettica. Noi sappiamo che ogni finito, invece di essere qualcosa di fisso e di ultimo, è piuttosto mutevole e transeunte. Appunto questo è la dialettica del finito, mediante la quale il finito, in quanto in sé, è l'altro da sé. Viene sospinto anche oltre ciò che è immediatamente e si ribalta nel suo posto. Insomma, cominciamo a avere un po' il fiatone ragazzi. Però questo è per far capire l'importanza del movimento negativo, che non è più soltanto il tentativo di poi rimandare al primo momento positivo, che è la critica che Hegel fa alla dialettica platonica. C'è il momento intellettuale, il momento di negazione che rimanda al momento intellettuale ed è un continuo in pallo. No, perché poi c'è il momento terzo, ed è il terzo momento della dialettica, o il momento speculativo, e dice l'elemento speculativo nel suo vero senso è ciò che contiene in sé come superate quelle opposizioni a cui si ferma l'intelletto, e quindi anche l'opposizione tra soggettivo e oggettivo, e proprio così mostra di essere come concreto e come totalità. Quindi la sintesi finale è quella che tiene già in sé il superamento dei primi due momenti. Ma attenzione, superamento, come vedremo, è una cosa molto particolare, non è negazione il superamento, è proprio il superamento nel senso riuscire a trarre ciò che di buono esiste fra questo interscambio e andare avanti. La bella cosa è che a un certo punto Hegel, proprio nello stesso paragrafo, un po' dopo, arriva a dire in tal modo il vero, oh tenetemi forte perché questo è tosto, questo è tosto, sembra quasi Nietzsche, in tal modo il vero è il delirio bacchico in cui non c'è membro che non sia ebro, e poiché ciascun momento mentre tende a separarsi dal tutto altrettanto immediatamente si dissolve, questo delirio è anche la quiete trasparente e semplice. Come vi ho detto, a volte Hegel riesce ad arrivare a dei connotati poetici che ti lasciano un po' senza parole, e qui speramente arriva a dire che la sintesi di questo momento triadico della dialettica è letteralmente un momento dionisiaco, bacchico, ebbre sono le cose, ebbre del loro stesso superamento. Cosa vuol dire qua? Beh, qui c'è l'aspetto mistico della filosofia hegeliana, perché l'intelletto è il momento in cui la nostra facoltà intellettiva separa e prende dal particolare l'universale, e in questo modo rende particolare anche l'universale. Poi c'è il momento della razionalità negativa, quindi il momento in cui c'è la contrapposizione proficua, ma che di fatto rischia di dissolvere gli stessi elementi che stanno in diatriba, e poi c'è il momento in cui non è più l'intelletto a comandare. Che cos'è a comandare? Beh, è questa ebbrezza, è questa ebbrezza, è la ragione, ed è la ragione che va oltre la contrapposizione delle determinazioni, vedendo in quella contrapposizione e negazione già il punto del superamento. E quello ha a che fare con il mistico, è il motivo per cui Hegel dall'inizio alla fine della sua vita portò il cristianesimo come esempio cardine dal punto di vista religioso di questo sommovimento universale, in cui la religione ebraica era il momento di negazione di questo movimento dello spirito, il cristianesimo era la riconciliazione, la nuova alleanza fra il trascendentale e l'immanente. Qui potremmo spendere veramente ore e ore, ma non è il caso, perché non è quello l'argomento. Però è molto interessante questo slancio, ed è quello che io al tempo stesso ritengo affascinante e inaccettabile della filosofia hegeliana, perché il tentativo di creare una struttura, un pallogismo così strutturato, così forte, così coerente, che poi però trova nella dimensione mistica la sua reale dimensione, è al tempo stesso poetico, è ispirante, però sembra quasi banale. Cioè a me dà la stessa sensazione di quando Cartesio, alla fine dei conti, riciccia fuori Dio dalla finestra per dire guardate che alla fine, cioè cogito ergo sum, noi siamo reali perché dopo tutto il delirio sul dubbio iperbolico, in fin dei conti, pensare equivale a essere in connessione con Dio. È un po' questa cosa e l'idealismo forse è partito da questo aspetto e non può che ricadere in questo in quanto rovesce il rapporto fra mondo e individuo. Però poi torno alla chat, ma voglio soltanto finire questo per dare un senso a quello che abbiamo appena letto. Lo spirito potremmo immaginarcelo quindi a questo punto quasi visto da fuori, sub specie eternitatis, tanto per ritirare fuori di nuovo Spinoza. Beh, potremmo chiederci lo spirito egheliano come si vedrebbe da fuori, visto da un occhio esteriore? Sappiamo che l'occhio esteriore non può esserci, è un puro esperimento mentale, perché neanche Dio è fuori dall'assoluto. Dio è l'assoluto, ok? Bene, però se volessimo immaginarci da fuori quello spirito come potrebbe sembrare, beh, lo spirito sarebbe un circolo di circoli, un vortice fatto di mini vortici e ogni vortice è un movimento dialettico in cui abbiamo dei momenti di contrapposizione e superamento e ognuna di quelle spirali, vortici e spirale che evolve, che cambia, dà vita al vortice più grande e alla fine dei conti i vortici più grandi danno vita a vortici più, fino ad arrivare al vortice finale. Il vortice è una spirale che pur circolando sempre intorno a se stesso, però ha una spirale che quindi si sposta e evolve. Ecco, quindi, che cos'è lo spirito egheliano? È un frattale. Il frattale, avete presente che cos'è? Il frattale è una forma le cui componenti rimandano alla forma totale. Il cavolfiore, se non sbaglio, è... no, il cavolfiore, il... no, porca miseria, com'è che si chiama? Com'è che si chiama? Non è il cavolfiore, è il... non è un carciofo, ragazzi, datemi una mano in chat, c'è un momento di difficoltà. Vediamo se mi dite in chat. È il cavolfiore, sì, 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 è il cavolfiore, il cavolfiore, avevo ragione. Il cavolfiore è un frattale, ogni singola parte è un piccolo cavolfiore e il cavolfiore potrebbe essere parte di un altro cavolfiore più gigante. Magari siamo tutti un enorme, incredibile cavolfiore. Non è esattamente il destino che speravo per me stesso, però potremmo esserlo. Ecco, è un cavolfiore però in cui ogni cavolfiore è in movimento, un vortice in divenire, che forma vortici sempre più grandi e la totalità dello spirito è al tempo stesso la realtà di ogni singolo vortice. Ogni singolo vortice esiste in virtù di quel vortice incredibilmente grande unitario e ogni singolo vortice è necessario per il vortice totale, immenso. Il reale è razionale e ciò che è razionale è reale perché tutto sta all'interno di quel vortice e il pensiero è la comprensione stessa di come il vortice si sviluppa e se io capisco i vortici piccoli riesco ad arrivare a capire i vortici più grandi. È proprio una metafora però questo è per farvi capire. Il reale è razionale, cioè l'universale esprime il senso del reale e quella connessione mi è data proprio dal pensiero. Pallogismo. E direi che dopo questo viaggio incredibile, veramente bacchico, possiamo andare a leggere un po' la chat e quindi eccoci qua, eccoci qua. Pagatissimo sto cavolfiore, esatto, esatto. Cavolfiore romano per la precisione, grazie Rumma Twitch per la specifica, grazie mille. Allora, io non riesco a figurarmi questa dialettica, è un insieme di ragionamenti. No, 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 non è, non la dialettica è intesa come ragionamenti, la dialettica è letteralmente la struttura con cui la realtà si forma. Quei vortici, quei cavolfiori, quei frattali si sviluppano perché gli elementi della realtà sono in una relazione dialettica. Poi il pensiero traduce la dialettica, ma tutto è continuo scontro. Da questo punto di vista Hegel prende a piene mani il pensiero antico di Eraclito, Polemos, di ogni cosa è re e ogni elemento comanda. Perché in Hegel veramente il conflitto, Polemos, il conflitto domina questa formazione di vortici. E quindi in realtà non è il ragionamento, la dialettica è la struttura stessa della realtà. La realtà esiste in forma dialettica. Spero che questo sia più chiaro. Bacchico is the new resilience, è nostra patore, non esageriamo. Allora, leggo un paio di domande. Norval dice, questa dello spirito mi ricorda Kfufk, delle cosmicomiche di Calvino, soprattutto nel racconto della spirale. Eh beh certo, dove il protagonista prende coscienza e comprende se stesso, comprendendo anche tutto quello che pensa e che crea di conseguenza. È un ottimo parallelismo. Molto bene Norval, grazie. In realtà ci sono anche tanti altri racconti di Calvino. Calvino era un conoscitore di Hegel, non lo definirei un hegeliano, però molti suoi racconti vanno in quella direzione. Anche le città invisibili a alcune eco-hegeliane molto molto chiare. Phoenix dice, a parte il fanatismo per il tre che manco Dante, devo ammettere che il sistema antitesi, antitesi e superamento è la cosa che ho sempre apprezzato e mi è sempre piaciuta, seppur banale magari. Ma infatti è così. Il problema è che per i presupposti di cui parte Hegel, il superamento ha a che fare con una dimensione mistica. Ed è quella la cosa che io non riesco a digerire, non riesco a far mia. Ne riconosco l'importanza, ne riconosco. Hegel riesce in un sistema comunque così strutturato a dare una centralità al pensiero religioso, al pensiero mistico, però per il mio punto di vista è il grande limite, perché tutto quanto rischia di sfilacciarsi in una supercazzola universale. E secondo me è quello che poi succede. Allora, ma questa analogia, non vedo, 413 per 7500, questo è il tuo nick. Bene, ok. Ma questa analogia della singola parte con il totale come uno, un frattale dell'altro, non può essere condivisa anche dalla filosofia di Spinoza, se non sbaglio. Però sì, ma in Spinoza c'è una staticità. Infatti è la critica che Hegel muove a Spinoza. Il tutto spinoziano è statico, è fermo, è molto più simile all'uno plotiniano, per dirne uno, che in effetti è parte integrante di questo tipo di tradizione filosofica, di questo monismo che si dipanna nella storia. Quindi sì, ha le sue, l'ho detto infatti, Hegel si definiva uno spinoziano, si è addirittura definito uno spinoziano, comunque Spinoza è il pensatore più vicino a quello che Hegel sentiva di essere. Però, dall'altra parte, il tutto spinoziano, l'assoluto di Spinoza è un assoluto molto molto statico. Quello di Hegel invece è in continuo vortice di venire. Ok. Allora, ultima domanda. Signorino Maria dice, Ricco, qual è il rapporto tra il pallogismo di Hegel, direi anche giustificazionismo, ed eventi catastrofici della storia come le guerre mondiali all'olocausto? È ancora sostenibile? Allora, no, io non sono mai stato d'accordo con chi imputa ad Hegel la paternità di un giustificazionismo. Allora, Hegel era un pensatore che io non temo di definire reazionario per i tempi in cui si trovava. In effetti è famosa, insomma, quella frase quando vede Napoleone entrare nella sua città dice, ho visto un piccolo uomo concentrato in un punto esprimere tutta la grandezza della storia. Nel corso del suo pensiero ha sviluppato sempre di più un pensiero, soprattutto a livello politico, molto reazionario, poi lo vedremo quando si parla dello stato etico. Però andiamo a vedere poi le motivazioni dello stato etico, che è una visione che io proprio mi fa schifo. Lo stato etico hegeliano è la parte della sua filosofia che rigetto più palesemente, però capisco le ragioni che sono dietro e sono ragioni che in realtà sopravvivono, ma non mi sento di portarlo a dire, portare a dire è un pensatore giustificazionista, sinceramente non me la sento. Rischia di essere una semplificazione che allontana le persone, secondo me, senza il merito di allontanarle. Anche Rick c'è che dice, quindi per Hegel non vale nel principio di identità, nel principio di non contraddizione. Non so da cosa tu l'abbia intuita questa cosa, ma valgono e come. Hegel prende a piene mani da Aristotele, quindi il suo panlogismo, se tu leggi la scienza della logica, lui utilizza assolutamente identità e non contraddizione tutta la vita. Ovviamente interpretati a suo modo, ma no, non direi proprio che li supera o non li tiene presenti. Allora intanto grazie a tutti quelli che stanno abbonando, siete sempre tanti, quindi grazie, vi ringrazierò tutti verso la fine della live e ovviamente ecco, io lo dico, non riuscirò a leggere tutti i messaggi, lo sapete, non si possono leggere tutti i messaggi perché sono tantissimi, cerco di recuperarli più possibile, però se poi per caso ne salto uno, non vogliatemene. Adesso torniamo invece alla monografica e ora io tenterò di enucleare alcune di quelle che sono secondo me le intuizioni nascoste in quella che è l'orrida prosa hegeliana, perché Hegel ha questa prosa che rende molto oscuro un pensiero già difficile e cosa volete? Io potrei proporvi un sacco di letture, potrei farvi la lezione accademica, potrei, ma non è quello del mio interesse perché poi se andate a leggere i testi che vi ho consigliato anche di introduzione ad Hegel avrete le cose che vi servono. Quello che mi interessa è quali sono le intuizioni che possono veramente motivarci a leggere Hegel, anche nel disaccordo con Hegel e io ne ho trovate alcune che vorrei discutere con voi. La prima è la necessità di abbracciare il negativo, ancora meglio, la necessità di imparare da ciò che non ci piace. Questa è forse la cosa più preziosa che io ho preso da Hegel e che è stato lui a esprimermi per primo in modo così potente e parto con una lettura tratta dalla scienza della logica. Scrive Hegel, si dovrebbe dunque dire tutte le cose sono in se stesse contraddittorie e ciò propriamente, nel senso che questa proposizione esprime, anzi in confronto delle altre, la verità e l'essenza delle cose. È uno dei pregiudizi fondamentali della vecchia logica e dell'ordinaria rappresentazione che la contraddizione non sia una determinazione altrettanto essenziale e immanente quanto l'identità. Invece, quando si dovesse parlare di un ordine di precedenza e si dovessero tenere ferme le due determinazioni come separate, bisognerebbe prendere la contraddizione come la più profonda e la più essenziale. Poiché di fronte a essa l'identità non è che la determinazione del semplice e immediato, del morto essere. La contraddizione invece è la radice di ogni movimento e vitalità. Qualcosa si muove, ha un istinto e un'attività, solo in quanto ha in se stesso una contraddizione. Questo è un bellissimo passaggio delle scienze della logica in cui viene detto una cosa che ragazzi abbiamo detto tantissime volte, che qualcosa di contraddittorio non è necessariamente non esistente, anzi che in virtù di una contraddizione qualcosa può acquisire il suo valore. Le cose in Hegel sono in movimento proprio in quanto contraddittorie. Tanto per rispondere alla domanda di prima che mi è stata fatta, questo non significa che Hegel non tenga in considerazione il principio di identità e non contraddizione, solo che dà a questi principi una collocazione diversa rispetto a quella della logica classica aristotelica. Li tiene in presenti, ma quello che dice, attenzione, la contraddizione non significa una non esistenza, significa qualcosa che può mettere in movimento. Ecco la differenza anche con la logica spinoziana, dove evidentemente no, la contraddizione non può avere una realtà di questo tipo perché? Perché perché non è tutto in movimento e tutti i movimenti che noi vediamo sono illusori perché Deus si ve natura, è tutto il tempo e tutto lo spazio in un unico momento, istante, punto, e invece noi vediamo il movimento ma perché siamo a essere limitati. Hegel dice no, attenzione, caro Spinoza, no, il movimento esiste proprio in virtù del fatto che lo sappiamo pensare, non è un'illusione, proprio perché lo sappiamo pensare. La contraddizione è il fuoco sacro che sta alla base di quel movimento. Tengono in sé la contraddizione le cose, i movimenti, i divenire e il vortice dello spirito, questa entità totale in movimento, non potrebbe muoversi senza le contraddizioni che continuamente all'interno si nutrono e si svolgono. Solo l'infinito è incontraddittorio. Cosa vuol dire? Vuol dire che di nuovo se dovessimo immaginarci come uno sguardo subspecie eternitatis, scusatemi, che osserva dall'esterno questo vortice immenso, allora ci accorgeremo che il vortice in sé e per sé è incontraddittorio, non ha contraddizioni, ma quando siamo all'interno di quel vortice, quando siamo coinvolti da momenti, da attori, da soggetti, noi dobbiamo guardare la contraddizione come un momento necessario per quello svolgimento universale. Questo è un pensiero importante ragazzi. Noi conosciamo il mondo attraverso il travaglio, la fatica, la sofferenza, attraverso la negatività, il travaglio del negativo, proprio lo chiama così, che è il movimento della dialettica, il quale ci permette di accorgerci dell'incompiutezza dei momenti, dell'insufficienza delle posizioni, dell'inconsistenza degli eventi, cioè di ciò che sta all'interno del vortice universale. E soltanto guardando in faccia quella contraddizione, vivendo la fatica che la contraddizione mi impone, che mi accorgo intellettualmente, ragionevolmente, spingendomi oltre i sensi e l'intelletto e le determinazioni a dire, aspetta forse c'è qualcosa di più. E questa contraddizione non sta mostrando il fatto che ci sbagliamo, questa contraddizione sta nutrendo la necessità di fare un passo in più. E questa è una posizione che avrà un grande successo nel corso della storia futura d'Egel. Il negativo che l'altro ci pone, dirà Levinas più di un secolo dopo, mostra il negativo dentro di noi, quello che ci compone. La contraddizione che io riscontro in uno scambio dialettico con qualcuno, di nuovo, in una diatriba sulla giustizia, io sostengo la sicurezza, tu la libertà, in questa diatriba in cui la contraddizione mostra la reciproca insufficienza, la reciproca transitorietà delle posizioni e dei momenti dei soggetti, mi mostra non solo quella contraddizione che mi permette di fare un salto in là e di trovare una sintesi, ma mi mostra anche la contraddizione che sta in me, che mi forma in quanto soggetto, mi mostra che anch'io sono fatto di vortici, di triadi, di movimenti dialettici, ed è tutto movimento dialettico. E quindi io mi accorgo del negativo che mi compone, di cui sono il prodotto. E quindi ecco il vortice universale che produce i soggetti nel corso della storia come conseguenze di un movimento molto più ampio. È una concezione antipositivista del mondo, ed è una concezione, io lo devo dire da questo punto di vista, molto molto matura. È una concezione che presa così in sé per sé, io sposo appieno. Come si formano le nostre idee? Le nostre idee si formano soprattutto per il contrasto. Quante volte ne abbiamo parlato? Vi ricordate ormai all'inizio della seconda stagione di Daily Cogito, quando abbiamo discusso della figura del Vrang Vrang, quella figura nata da un bellissimo romanzo di Kurt Vonnegut, Ghiaccio 9, che vi consiglio di leggere perché è un capolavoro, come tutte le cose scritte da Vonnegut, e c'è questa figura del Vrang Vrang. Cos'è il Vrang Vrang? È il contrario dell'influencer. L'influencer è quello che ti spinge positivamente a credere in qualcosa. Sono io influencer quando parlandoti di, che cavolo ne so, di, 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 di giusnaturalismo, ti convinco del fatto che il diritto naturale è una buona idea. Ma io in questo senso faccio anche il Vrang Vrang, perché parlando di giusnaturalismo, dal momento che sto sulle balle a tantissime persone, beh, tanti si convincono, proprio perché trovano un contrasto con me, che il diritto naturale sia una cazzata. È un esempio fra mille. Però è questa l'idea. Noi ci formiamo le nostre idee molto più spesso sulla base dei contrasti che non degli accordi. Sono molto più influenti i Vrang Vrang che non gli influencer nella nostra vita. E se fate una cernita delle vostre convinzioni vi accorgerete che una buona parte di queste convinzioni ve le siete fatte perché avete ascoltato qualcuno che parlava del contrario di cui poi vi siete convinti perché quello vi stava sulle balle. È normalissimo che succeda così. Quindi è una visione molto matura per me questa. Tu arrivi a concepire il mondo in un certo modo, anche, provo per farla generosa, anche a causa dei Vrang Vrang. Cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che il Vrang Vrang è molto potente, ma vuol dire anche che è fondamentale imparare dalle idee che riteniamo disgustose. È importante guardare in faccia idee che ci ripugnano. Lo so, io lo sapete, sono un internazionalista, un europeista. A me interessa il sovranismo. Mi ripugna come idea in sé per sé, ma voglio smontarla e guardare cosa in quell'idea c'è di buono. Nella contraddizione, perché quando la vedrò a quell'idea capirò anche meglio perché me ne sono allontanato. Cioè vedrò il travaglio del negativo fra me e quell'idea è dentro di me. E la stessa cosa possiamo fare con qualsiasi elemento della realtà. Ed è una cosa proficua, importante. E questo porta a un'altra conseguenza. L'impossibilità di un'educazione positiva. Anche questo l'abbiamo discusso. L'educazione intesa come una serie di persone che ti insegnano come vivere e come stare al mondo. Non funziona. Non funziona perché in realtà noi ci educhiamo molto di più a causa delle esperienze negative, a causa del travaglio del negativo, a causa dei contrasti, delle contraddizioni, a causa delle esperienze traumatiche. Noi impariamo come stare al mondo e comunque spesso ci sbagliamo. E questo è molto molto importante. Vi leggo un piccolo pezzo. Allora, scrive Hegel. La vita dello spirito non è quella che si riempie d'orrore dinanzi alla morte e si preserva integra dal disfaccimento e dalla devastazione. Ma è quella vita che sopporta la morte e si mantiene in essa. Lo spirito conquista la propria verità solo a condizione di ritrovare se stesso nella disgregazione assoluta. Lo spirito è questa potenza, ma non nel senso del positivo che distoglie lo sguardo dal negativo, come quando ci sbarazziamo in fretta di qualcosa dicendo che non è o che è falso, per passare subito a qualcos'altro. Lo spirito è invece questa potenza solo quando guarda in faccia il negativo e soggiorna appresso di esso. Tale soggiorno è il potere magico che converte il negativo nell'essere. Ragazzi, questo è un pezzo da pelle d'oca. Un pezzo da pelle d'oca ed è stimolante, è importante. Guarda in faccia ciò che ti ripugna. Io ve lo dico, e sapete, ripeto, che io sono molto critico nei confronti di Hegel, ma una delle idee più importanti che noi dobbiamo far nostre in quest'epoca è abbi il coraggio di imparare da ciò che ti ripugna. Abbi il coraggio di circondarti di cattivi maestri riconoscendo perché sono cattivi maestri. In un momento storico in cui il paternalismo domina, in cui la legge vuole educare positivamente, non c'è niente di più importante che dire no, no e poi no. Io voglio imparare dalle idee disgustose. E questo è un pensiero che dobbiamo sempre tenere ben presente. E adesso torniamo a noi. Allora, vediamo, vediamo un po', vediamo, vediamo un po' le nuove domande. Khan dice, porca paletta Rick, ti rendi conto che questo movimento dialettico che descrive Hegel sembra immensamente simile al concetto dell'eterno vortice del Tao, del Taoismo, che vortica e si muove grazie alle differenze della polarità? Consideri che Hegel possa aver preso punto alla concettità oestri. Allora, io sono sempre molto molto cauto sui parallelismi fra pensiero occidentale e filosofie orientali, anzi fra filosofie occidentali e pensieri orientali, perché poi la filosofia è una cosa molto occidentale, almeno dal punto di vista storico e etimologico. So che Hegel qualcosa conosceva, qualcosa conosceva del pensiero orientale. Non escludo, poi io ve lo dico obiettivamente, non conosco così a fondo gli studi di Hegel, da dirvi con certezza se lui ha preso spunto o meno. Non mi pare che nei suoi testi ci siano veramente dei rimandi chiari a questo tipo di dottrine, però non posso escludere che le abbia conosciute, lette e che abbia preso spunto, questo sì. Dani Aga dice, come pensi si relazionerebbe Hegel con le ultime scoperte scientifiche, per esempio sul cervello, ma soprattutto con la fisica quantistica? Oddio, questa è una domanda da milioni di dollari o di euro o di bitcoin. Ah no, bitcoin è meglio di noi in questi giorni, però scusate non ho resistito. Allora, 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 cos'è che possiamo dire su questo? Sicuramente Hegel vedrebbe nello sviluppo scientifico contemporaneo un positivismo che non condividerebbe, questo sono abbastanza convinto, perché in fin dei conti le critiche che lui muoveva al sapere scientifico dei suoi giorni possono essere molto molto applicabili anche alle cose che vediamo oggi. Un positivismo che lui non avrebbe visto di buon occhio. Poi, cosa vuoi, in modo preciso sulla fisica quantistica? Molto difficile. Sulle neuroscienze posso dirti sicuramente che lui vedrebbe di mal occhio il materialismo riduzionista, perché Hegel non è un materialista, non è un riduzionista, anzi. Quindi sicuramente rigetterebbe l'idea del fatto che la mente sia corrispondente completamente al cervello e alla sua fisicità. Sarebbe critico su questo, non c'è alcun dubbio. Però poi bisognerebbe entrare un po' più nel dettaglio, ma è giusto per dare un paio di spunti. Grazie sempre a Kala, ottimo moderatore che ci sta mandando le domande in chat, dandomi una grossissima mano. Quindi grazie mille a Kala e ai nostri bravi moderatori. Adesso possiamo andare avanti. Terzo punto, un altro punto per attualizzare Hegel. La storia tiene in sé cose vive. Allora, vado a prendere anche qui un paio di letture e ve le propongo, ve le propongo. Sono due letture tratte dall'Enciclopedia Filosofica. Allora, eccolo qua. È qui il luogo opportuno per ricordare il doppio significato della nostra espressione tedesca Aufheben, superare. Ve l'ho detto che saremmo tornati sul fatto del superamento, che significa una cosa molto particolare. Aufheben, da un lato vuol dire togliere, negare, e in senso diciamo per esempio che una legge, un'istituzione, sono soppresse, superate. Aufgehoben. D'altra parte però, Aufheben significa anche conservare. E in questo senso diciamo che qualcosa è ben conservato mediante l'espressione wohl aufgehoben. Questa ambivalenza dell'uso linguistico del termine, per cui la stessa parola ha un senso negativo e uno positivo, non deve essere considerata casuale, né addirittura se ne deve trarre motivo di accusa contro il linguaggio, come se fosse causa di confusione. Al contrario, in questa ambivalenza va riconosciuto lo spirito speculativo della nostra lingua, che va al di là della semplice alternativa O-O proprio dell'intelletto. E la seconda lettura. questo movimento, il quale costituisce ciò che in passato doveva condurre a compimento la dimostrazione, è il movimento dialettico della proposizione stessa. Solo esso è lo speculativo reale e soltanto l'atto di esprimere questo movimento è esposizione speculativa. Questi sono due pezzi che vanno di pari passo e sono molto importanti perché ci dicono qual è la concezione della storia di Hegel e cosa bisogna farne della storia. Anche qui troviamo un parallelismo, come prima con il delirio bacchico, un parallelismo con Nietzsche, perché nella visione che Hegel porta della storia lui si scaglia molto contro lo storicismo degli antiquari, cioè gli storici che vogliono conservare la storia per amore della storia. Qui per Hegel è molto importante la lezione di Vico, Gian Battista Vico, che insomma è un filosofo di cui prima o poi devo fare una bella monografica perché io, un autore che ho amato nella mia vita, un giorno lo riprendo in mano, me lo studio, me lo ristudio per bene e ci faccio una bella monografica. Vico è uno dei punti di ispirazione della visione che Hegel sviluppa della storia, cioè la storia non come una serie di avvenimenti che si svolgono e che hanno un semplice rapporto di causa-effetto gli uni con gli altri per la storia è la traccia che il divenire dello spirito lascia di sé, il che significa che gli avvenimenti del passato hanno un significato reale, concreto per il nostro presente e per il nostro futuro. E questo è quello che dice Vico, nella scienza nuova di Vico noi troviamo questa dottrina che, voglio dire, letta adesso ci sembra anche un po' ingenua perché noi siamo storici antiquari, quindi ci sembra un po' ingenua cioè del fatto che l'umanità si è sviluppata attraverso delle età ben precise, l'età degli eroi, l'età degli dei, l'età degli eroi, l'età degli uomini e in questo sviluppo razionale si sono perdute nelle cose del passato, però trainando con sé gli elementi più nobili delle varie epoche in maniera da creare una maturazione. Questa concezione di Vico è per Hegel molto importante, il passato porta con sé un significato ben preciso e questo si vede nel testo le lezioni di filosofia della storia, la filosofia della storia di Hegel che è forse uno dei punti di maggior ispirazione per altri filosofi, per esempio la filosofia russa contemporanea ha avuto un grandissimo impatto rispetto al pensiero di Hegel, cioè il pensiero di Hegel ha avuto un grande impatto sulla concezione storico-filosofica delle filosofie russe contemporanee e oltre a questo porta con sé anche un grande messaggio per le nuove antropologie, quindi quella di Hegel è una nuova antropologia, l'uomo di oggi non è soltanto il risultato di un rapporto causa-effetto con il suo passato, conoscere la storia non significa quindi soltanto sapere come le cose sono andate ieri per spiegare come vanno oggi, no, in realtà conoscere il passato significa poter prendere le cose che dal passato possono essere conservate, riportate perché hanno un significato che vale per l'oggi. È un'influenza determinante questa di Hegel sulla rinnovata concezione della civiltà che a metà ottocento ha cominciato a diventare così importante, la nuova antropologia dei Marvin Harris, dei Brian Bryson, persino degli Harari, quindi l'idea che noi dal passato possiamo trarre lezioni politiche, morali, filosofiche per il nostro presente, quindi la storia non va vista come appunto una vetrina da osservare, contemplare, studiare, imparare, ma va guardata come un mondo vivo, un mondo vivo che non è assolutamente in decomposizione, non è ammuffito, è vivo e va riportato. In Hegel, e questo per me è sorprendente, troviamo nella visione della storia in modo sorprendente un prospettivismo e un relativismo che non ti aspetti. Da una persona che poi politicamente, come vedremo, è molto reazionaria, questo prospettivismo, questo relativismo nella storia per me è sempre stato molto molto di ispirazione. Quindi ciò che dice Hegel, tu devi conoscere la storia per prendere ciò che nella storia respira ancora, è ancora vivo, o meglio, e questo viene detto ancora più potentemente da Hegel, nella storia tu trovi parti di te stesso. Cioè devi studiare la storia perché lì c'è qualcosa che ha a che fare con te, ma anche nella storia antica. Questa è un'idea che avrà grande impatto anche sul pensiero di Carl Gustav Jung, il quale cita Hegel in alcuni suoi scritti. Quando parlando degli archetipi dice sì, questa è un'intuizione che ha avuto anche Hegel. nella storia, nella più antica storia, anche nella storia barbarica dell'umanità, tu trovi aspetti della tua psicologia, del tuo modo di intendere il mondo, l'amore, la paura, perché siamo creature molto antiche. E allora in questa traccia che lo spirito lascia dietro di sé in questo vortice universale che solca un percorso ben determinato, tu devi guardare la traccia che lascia perché tu sei ancora quella traccia e tu la sei quella traccia. E questo è molto importante, il che significa che il passato ci riguarda da vicino. Ora, la visione della storia in Hegel, anche qui, può essere presa come punto di ispirazione o come punto critico, perché ovviamente, cosa volete, è molto difficile accettare l'idea che io, in quanto soggetto, sia il prodotto di qualcosa che esula completamente dalla mia esistenza, che io sia la conseguenza non calcolata di questo vortice universale. È difficile, per un semplice fatto, perché noi abbiamo la prospettiva di creature mortali che passano poco tempo qui e che in quel poco tempo vogliono almeno ritagliarsi un minimo di serenità. Pensare che noi siamo il risultato non voluto, il risultato collaterale di un sommovimento universale, non è un'idea che ci lascia particolarmente ispirati. Però, dall'altra parte, possiamo anche usare positivamente questa visione della storia. Appunto, tu guardi la storia e se vuoi conoscere veramente chi sei e quindi anche capire come puoi essere un minimo più sereno e felice nella vita, devi guardare bene al passato, perché nel passato ci sono sicuramente degli aspetti e delle tracce che hanno a che fare con quello che tu sei oggi. E questa è un'idea molto interessante che troppo spesso dimentichiamo. Un'ulteriore interessante attualizzazione del pensiero di Hegel è quello sul progresso, che ovviamente è legato a doppio filo, al pensiero legato alla storia. Il progresso per Hegel non è lineare e noi abbiamo bisogno di istituzioni. La visione del progresso, per come si dipane in Hegel, è fortissimamente legata alla sua filosofia politica. Allora, il progresso, progresso. Noi pensiamo che in questo sommovimento vorticoso dello spirito verso la sua autocomprensione assoluta, in qualche modo ci sia una linearità. Invece no, invece no. All'interno, forse nel vortice presenza per sessi c'è anche una linearità, però all'interno del vortice i progressi delle nostre esistenze, quelli politici, quelli economici, politici, scientifici, sono tutt'altro che lineari. E quindi Hegel, da buon antipositivista, contrappone un'interessante differenza fra la sistematicità dell'esposizione del suo pensiero e l'idea che il progresso sia un vero casino. Questa è una cosa molto interessante, perché tu hai un'opera molto strutturata, molto incardinata, molto rigida stilisticamente, anche espositivamente, tutte queste triadi, di tutto questo ordine. E poi dall'altra parte questo viene fatto per esporre una roba che per Hegel è incasinatissima, cioè il progresso, in cui la storia umana ha sempre avuto momenti di crescita, momenti di caduta, momenti di devastazione. Devastazione da cui poi devi imparare, come abbiamo letto prima, in quel pezzo molto molto bello. Ecco, la sistematicità dell'esposizione e il casino del progresso sono parte integrante, di nuovo, di questa contraddizione. E così come la filosofia deve tendere a sistema, secondo Hegel, la società deve tendere allo stato etico. Cosa è lo stato etico? Lo stato etico è l'idea che Hegel ha della legge, del ruolo dello Stato. E noi non possiamo evitare di guardare all'immagine che lui ha del progresso per comprendere l'idea che è dello Stato. Ora, Hegel, in realtà, per quanto sia un pensatore che può essere anche di ispirazione, però non è un ottimista. Lui non è un ottimista. Lui non crede che le buone idee possano trionfare spontaneamente su quelle terribili e inaccettabili. Ed è per questo che lui dice il progresso nella storia è un gran casino. Cheat proprio precisa della scienza della logica. Non funziona. Non funziona perché in realtà le idee hanno bisogno di sostegno. Ed è il motivo per cui lui alle sue idee dà una sistematicità così forte. Non è un caso. Infatti Hegel è forse il primo filosofo della sua generazione. Non riesco ad escludere neanche Kant perché Kant quando parla di filosofia del diritto parla molto più di principi generali ma molto meno di istituzioni in sé per sé. E quindi dico forse il primo filosofo della sua generazione che dice chiaramente abbiamo bisogno di nuove istituzioni. Lo Stato etico è l'idea che la conformazione politica della società perfetta debba essere il risultato necessario di quel sommovimento razionale che è la comprensione dello spirito assoluto. E quindi c'è la forma politica perfetta per Hegel e lui la chiama Stato etico. Lo Stato etico non è nient'altro che la legge, la burocrazia, la struttura amministrativa le quali hanno un unico compito fondamentalmente. Assicurare la riuscita delle buone idee. Cioè la funzione della politica è quella di sopperire a quello che dicevo prima. L'impossibilità di un'educazione positiva. Io quell'educazione positiva non la posso avere sulle idee ma posso costruire uno Stato politico che mi aiuti a costruirle. Oggi noi questa cosa la vediamo perfettamente perché la nostra politica è fortissimamente legata a questa idea hegeliana senza mai citarla perché il DDL ZAN l'abbiamo visto tranquillamente anche nelle dichiarazioni di questi giorni ha dichiaratamente un intento educativo. Cioè le istituzioni, la legge, la burocrazia, l'amministrazione deve usare il suo potere per educare. Educare a sostenere le idee che la collettività ritiene meno deteriori o più edificanti quando ci va bene. E quindi l'idea che deve esserci una sorta di struttura politica che educa oltre a regolamentare, oltre a fare tutto quanto, è che poi, ripeto, lui è perfettamente consapevole che questo non è possibile farlo in modo preciso. In effetti poi possiamo dirlo che quando nei suoi lineamenti fisici di diritto su questo è molto molto fumoso. Però è questa l'idea che lui ha dello Stato. Allora vi leggo anche qua un paio di citazioni che sono molto interessanti per sviscerare questo concetto. Scrive Hegel. Così l'eticità è l'unità del volere nel suo concetto e del volere del singolo, cioè del soggetto. La sua prima esistenza è nuovamente qualcosa di naturale nella forma dell'amore e del sentimento, la famiglia. L'individuo a cui è annullata la sua ritrosa personalità e si trova con la sua coscienza in una totalità, ma, al grado seguente, deve vedersi la perdita dell'eticità particolare e dell'unità sostanziale. La famiglia si disgrega e i componenti si comportano l'un verso l'altro come indipendenti poiché soltanto il legame del bisogno reciproco li avvince. Questo grado della società civile si è frequentemente scambiato con lo Stato. Ma lo Stato è solo la terza cosa, l'eticità, ed è lo spirito nel quale ha luogo la prodigiosa unione dell'autonomia, dell'individualità e della sostanzialità universale. Quindi il diritto dello Stato è più alto degli altri gradi e la libertà nella sua concreta formazione la quale cede ancora soltanto alla suprema assoluta verità dello spirito universale. Quindi lo Stato etico nella Costituzione hegeliana ha un ruolo altissimo. Sta sopra il soggetto, sta sopra la famiglia, c'è lo Stato. E lo Stato è etico perché è la forma che dà manifestazione all'eticità. cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che lo Stato ha la funzione, è letteralmente la funzione di sostenere la struttura razionale che la filosofia mostra quando cerca di comprendere il mondo, in quella triade, in quella dialettica che abbiamo visto prima, di intelletto negativo e ragione. E quindi questo è un aspetto molto molto importante, ma continua perché cerchiamo di approfondire ulteriormente. Lo Stato è la volontà razionale, la quale è essenzialmente libera, è identica a se stessa. In quanto volontà razionale, lo Stato è la libertà come libertà libera e quindi realizzata. In sé per sé lo Stato è il tutto etico, la realizzazione della libertà. Fine assoluto della ragione è che la libertà sia reale. Ovviamente noi qui non possiamo non accorgerci che l'idea del soggetto come prodotto dello spirito universale porta Hegel a concepire una libertà ben diversa rispetto a quella di pensatori come Kant, come Locke, ma come lo stesso Hobbes. Perché? Perché in realtà la libertà qui è la libertà di soggiacere allo Stato, in quanto il soggetto è il prodotto e non è il soggetto in sé per sé. Ovviamente noi qui siamo di fronte a un pensiero che usa l'individualità dicendo l'individualità è meno importante rispetto a un bene comune e questo forse è il pensiero hegeliano che avrà le maggiori conseguenze nel corso della storia successiva, ma andiamo avanti. Lo Stato è lo spirito che sta nel mondo, lo spirito che si realizza nel mondo, nella coscienza. Lo spirito si realizza anche nella natura, ma solo come l'altro dello spirito, come spirito dormiente. Quando invece è dato nella coscienza, quando è oggetto a sé stesso e sa sé stesso come oggetto esistente, lo spirito è lo Stato. È tosta ragazzi questa, mi fa malissimo leggere sta roba. Quando si parla della libertà bisogna partire non dalla singolarità, dall'autocoscienza singolare, bensì soltanto dall'essenza dell'autocoscienza. Lo sappia o no l'uomo è in questa essenza che consiste la libertà ed essa si realizza come potenza autonoma nella quale i singoli individui sono soltanto momenti contro la quale il singolo non può nulla. È il cammino di Dio nel mondo a far lo Stato sia. A farciò e la potenza della ragione realizzatesi come volontà. Questo è un passaggio tosto, molto tosto, però ti fa capire qual è la concezione che Hegel ha appunto dello Stato. Lo Stato come letterale manifestazione di questo spirito assoluto, dello spirito. Infine, l'ultimo punto che vorrei portare a voi è la concezione che Hegel ha della natura. Anche questo è molto interessante, molto interessante. L'illusione della natura, o meglio, l'illusione che il romanticismo ha avuto nei confronti della natura. Importante tassello questo per comprendere come Hegel... Hegel? Bello Hegel. Ho inventato appena un nuovo filosofo, Hegel, quindi scusatemi, un applauso a me. È un importante tassello per comprendere come Hegel consideri il pensiero quale scintilla unica di verità. Anche qui vi propongo una lettura per capire meglio questo. Dice Hegel. La natura, secondo la sua esistenza determinata mediante cui essa è appunto natura, non va perciò divinizzata. Né il sole, né la luna, gli animali e le piante vanno considerati e presentati come opere di Dio superiori agli atti e avvenimenti umani. In sé, nell'idea, la natura è divina, ma così come essa è, il suo essere non corrisponde al suo concetto. La natura è piuttosto la contraddizione irrisolta. Il suo carattere peculiare è l'essere posta, è il negativo, nello stesso senso in cui gli antichi hanno inteso la materia in generale come il non-ense. Così la natura è stata definita anche come la caduta dell'idea da se stessa per il fatto che l'idea, in questa figura di esteriorità, si trova inadeguata a se stessa. La natura appare come il primo, immediato, l'essente, solo a quella coscienza che è essa stessa inizialmente esteriore e quindi immediata. Questa è una critica a tutti quei romantici appunto che dicevano che nella natura l'uomo trova la sua dimensione. Hegel dice no, ma cosa? Nella natura non c'è nessuna verità, non c'è nessuna divinità. La verità, la natura, sta nell'intelletto. La natura inganna se presa come momento positivo. La natura è esteriorità, è il momento negativo nella dialettica universale. Ciò che si manifesta, ma che manifestandosi non tiene in sé il proprio concetto, dice, e quindi nega la realtà vera che è il pensiero. Ecco perché quello di Hegel è un pensiero sfrenatamente antropocentrico, molto di più rispetto a tantissimi pensatori che lo sono comunque stati. Il pensiero è la realtà dell'essere umano ed è la via per lo spirito assoluto. E tutti quei romantici che consideravano la natura come l'autentico, e ancora oggi la natura è l'autenticità per moltissimi, a questi Hegel dice ma no, avete totalmente frainteso. La natura non è l'autentico, la natura è il momento di negazione di quella autenticità, di quell'assoluto. L'unico barlume di verità che possiamo trovare nell'universo è quello dato dall'analisi razionale, dal nostro pensiero. E questa è un'idea anche qui, bella sfrenata, però un'idea su cui possiamo tranquillamente riflettere e che io vi lascio lì come spunto. In conclusione, prima di arrivare e leggere qualche domanda dalla chat, conclusione. Allora, perché bisognerebbe leggere Hegel? Ovviamente per tutti i motivi che ho detto, cioè Hegel è un autore che può essere di grandissima ispirazione. Io credo che alcuni passi che vi ho letto questa sera siano molto potenti, molto belli e credo che valga la pena affrontarlo. Non è una lettura facile, però Hegel è un pensatore di enorme potenza. Purtroppo è reso molto difficile da uno stile mal digeribile e da un pensiero che è molto difficile da far proprio, però questo è il prezzo per entrare in contatto con un pensiero importante. Che siamo d'accordo o meno con lui, i punti che solleva nella sua filosofia sono di indubbio valore e spero di averveli mostrati. Ripeto, in questa oretta e mezza, poco più, non potevo fare molto più di quello che vi ho proposto, però spero comunque di avervi ispirati ad andare a leggere Hegel o almeno qualcuno che parla di Hegel in modo più approfondito. Il più grande problema che sta nel pensiero hegeliano, dal mio punto di vista, è l'evidente rovesciamento fra idea e mondo. Un rovesciamento che darà vita a una montagna di aberrazioni e ovviamente la diatriba subito aperta dopo la sua morte fra la destra hegeliana e la sinistra hegeliana, con un sacco di manifestazioni filosofiche che io nel tempo ho ritenuto molto molto pericolose molto spesso. Per quanto io prima abbia detto chiaramente che non sento di attribuire ad Hegel un giustificazionismo, un legame con le grandi tragedie del Novecento, non c'è dubbio che alcuni presupposti che portano lui stesso, soprattutto nella filosofia politica, a convincersi di alcune cose poi faranno parte anche di quelle manifestazioni politiche. Significa che Hegel è responsabile di ciò? No, assolutamente. Significa che dobbiamo leggerlo consapevoli che i presupposti del suo pensiero possono significare anche cose magari proprio brutte brutte brutte, però dall'altra parte noi dobbiamo affrontare le cose brutte brutte brutte, perché il mondo è un posto anche di cose brutte brutte brutte. E una cosa che Hegel ci dice di non fare è nascondere la testa sotto la sabbia come gli struzzi. Infine Hegel va letto perché secondo me è uno dei più grandi fallimenti di successo nella storia della filosofia. L'ambizione di trasformare la filosofia in scienza, infatti, è forse il più grande fallimento nella storia della filosofia moderna e al tempo stesso un trionfo incredibile perché il modo con cui Hegel ha sollevato questo tipo di visione ha influenzato tutti i filosofi successivi. E se tu non conosci Hegel fai fatica a leggere Heidegger, fai fatica a capire Husserl, fai fatica capire perché alcune cose nel novecento hanno preso certe pieghe e non solo in filosofia. Quindi io vi consiglio di leggerlo, Hegel. Tenete conto che ci sono tanti studenti in filosofia che fanno di tutto per schivare Hegel nel loro curriculum. Questo è un atteggiamento sbagliatissimo. È come se un cardiochirurgo facesse tutto per non fare l'esame di neurobiologia. Non mi farei operare al cuore da una persona che non sa come funziona il sistema nervoso, sinceramente. La stessa cosa io non mi fiderei di un filosofo che non ha mai studiato approfonditamente Hegel. E io spero che in questa serata, di essere riuscito insomma in questa serata, di spingervi a leggere qualcosa in più e non fermarvi a quell'immagine brutta che spesso abbiamo di Hegel e che è il prodotto di brutto insegnamento scolastico. Sì, credo di sì. Per quanto io sia in disaccordo con tante cose dette da Hegel, mi rendo conto che una buona parte dell'odio e dello stracismo nei suoi confronti è legato alla scarsa capacità di far capire che diavolo ha detto quest'uomo. E io spero questa sera di esserci riuscito, almeno in parte. C'era tanto altro a dire, ma adesso sono veramente cotto e quindi andiamo alle domande. Allora, 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 andiamo a leggere. Kala dice, comunque questa idea della forma perfetta mi fa pensare a come Burke temeva il fatto delle idee che si rivoluzionano come un'eclissi permanente piuttosto di rivoluzione lunare, ovvero il momento di scuro prima di tornare alla nuova luna. Ok, non conosco questa citazione, però magari approfondirò, grazie mille. Poi c'è, fermi lì che mi è saltata la chat, Busip, che dice, ma Hegel vede una fine di questo processo verso la conoscenza dell'assoluto di se stesso? Cioè vede un momento in cui i vortici si possono fermare perché hanno permesso all'assoluto di conoscersi? Sì, beh, è lo spirito assoluto. È lo spirito assoluto, è letteralmente il punto d'approdo. Ecco, un aspetto che non ho toccato, ma che adesso faccio emergere volentieri, così en passant, è che i pensieri utopisti dell'Ottocento e del Novecento, il marxismo non è certo oscuro a questa cosa, nascono proprio dall'idea hegeliana di una storia che ha uno sviluppo autonomo e che va verso la propria perfezione, cioè la conoscenza perfetta di sé. Quindi sì, assolutamente c'è un punto d'arrivo. Luca Gordoglio di Monte Zeno dice come concilia Hegel l'associare lo spirito assoluto con lo Stato, con il fatto che in contemporanea nel mondo esistono tanti Stati diversi con strutture politiche diverse? Guarda, in realtà, molto semplicemente, lui è consapevole del fatto che ci sono diversi gradi di sviluppo e lui ovviamente considera la propria filosofia, anche quella politica, come il punto d'approdo a cui non tutti sono arrivati e soltanto lo Stato prussiano per lui è quello che si avvicina all'idea definitiva di Stato etico. Però poi non tutti ci arrivano e tanti sono indietro dal suo punto di vista. Strapattone chiede, lo Stato non è una manifestazione della natura quindi? Se sì, perché lo Stato non è anch'esso negazione del pensiero? No, no, lo Stato non è una manifestazione della natura quindi non è negazione del pensiero, lo Stato è una costruzione intellettuale razionale, la natura no, lo Stato tiene in sé il suo concetto, ti direbbe Hegel, la natura no. Phoenix, ad ogni modo non possiamo che ringraziare, credo Hegel, poiché è stato un punto di svolta per la filosofia occidentale e il suo pensiero fa parte delle fondamenta dei filosofi sui posteri. Sì, questo sicuramente. Ringraziare non lo so, cioè sì, è stato sicuramente un pensatore fondamentale. Poi c'è Sir Feanor che dice, come si concilie lo sforzo individuale di pensiero dell'individuo da una parte e lo Stato etico dall'altro? Mi sembra che lo Stato etico vada ad azzarare la capacità dell'individuo che di fatto finisce con l'annullarsi nello Stato. No, perché in realtà ricordate il discorso dei vortici, lo Stato è, lo dico trivialmente, lo Stato è un vortice più ampio che non annulla i vortici al suo interno, ma esiste in virtù del fatto che all'interno ci sono tanti vortici, il che significa che dal punto di vista hegeliano l'individuo non si annulla, ma si realizza nello Stato. Ovviamente un liberale come me ti dice si realizza un paio di balle, no, è esattamente l'opposto, viene sacrificato in nome dello Stato. Però ovviamente lì Hegel non si può definire un pensatore della tradizione liberale. Però dal suo punto di vista non è un annullamento quello dell'individuo, è una realizzazione. E infatti lui dice lo Stato è la realizzazione della libertà. Ian Fra dice, Hegel considera l'uomo come un burattino della storia, la sua esistenza è solo votata a portare al mondo il messaggio che ha di sé? La sua esistenza è solo votata a portare al mondo il messaggio che ha di sé? Allora ti direi che è troppo semplificante dire che l'individuo sia un burattino nella storia. È un momento della storia, però è un momento anche necessario. Non direi mai che in Hegel l'individuo non abbia nessuna importanza. Ce l'ha solo fino a un certo punto. Ecco, mettiamola così. Però lo svolgimento dell'esistenza dell'individuo è parte integrante dello svolgimento della storia. Quindi è comunque un momento necessario. L'individuo non lo puoi togliere da quel processo, perché il processo non starebbe più in piedi. L'ultima domanda. Fili BND dice, il concetto dei vortici più piccoli non può collegarsi alla fase dell'analisi che scompone in concetti chiave della dialettica platonica? Dal punto di vista di Hegel no. E ti dico, anche secondo me sono due cose molto diverse. Proprio per la staticità, perché la scomposizione che dici tu di Platone è comunque su principi molto rigidi. In Hegel questa cosa si vorrebbe superare. Poi che ci riesca è un altro discorso. Con me non ci riesce. Però no, sono due cose abbastanza diverse. Molto bene, molto bene. Allora, io direi che ci siamo ragazzi. Siamo alle 11 e in una live su Hegel, alla fine della live, siamo in più di 500 spettatori. Quindi io faccio un applauso a voi che avete sfidato questa serata e siete stati qua così tanto e così belli con un sacco di domande. Quindi veramente, veramente grazie. Io sono felice di avervi portato questo contenuto come sempre e vi dico, lo faccio volentieri perché siete una community straordinaria che ci sta dando supporto in modo incredibile e io cercherò sempre di portarvi e cercheremo di portarvi sempre il meglio di noi stessi in queste live. Siete sempre, sempre belli. E dice David, ho un ictus al cervello ma sono ancora in live, sono fiero di me stesso. Ottimo, ottimo. E niente, io prima di lasciarvi vi ricordo che domani abbiamo doppio appuntamento, molto importante. Alle 12, il rassegnato stampa, non perdetelo. Se non ci seguite in live, fatelo ogni tanto perché il rassegnato stampa è tanta roba. E vi ricordo che se siete abbonati a Twitch, potete abbonarvi anche gratuitamente con l'account di Amazon Prime e per noi è comunque un supporto importante. Potete anche guardare il rassegnato stampa indifferita perché il rassegnato stampa rimane solo su Twitch, non viene esportato su altri canali, ma con l'abbonamento potete guardarlo anche indifferita. E poi alle 18 domani un appuntamento importantissimo. Avremo qui ospite dal vivo Bassi Maestro. Bassi Maestro, producer, DJ e sinceramente uno dei miei grandi idoli dell'adolescenza. Sono cresciuto con la sua musica e sarà un grande grande onore averlo qua in Cogitata. Ci divertiremo, ci divertiremo. Quindi voi non perdetela. E niente, io vi ringrazio tanto. Sono le 11 passate ed è incredibile essere qua a parlare di Hegel davanti a 500 persone. Però questa è la community di Daily Cogito. Questi siete voi che credete nel nostro progetto e ci aiutate a costruire una cosa così bella. Quindi grazie mille per essere stati qua con noi. Buona serata, fate i bravi e niente, è stato molto bello e Hegel o non Hegel, non dimenticate che non è tutto noia, ciò che pensa. Ciao! 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 Ciao!